Bentornati su MyFootballGersey. Facciamo un tuffo nel passato per vedere questa bellissima maglia della Juventus, ovviamente la prima, della stagione 1997-98, del giocatore più amato della storia della Juventus e chi se no se non... del Piero! La Juventus Maglia spettacolare, fatta veramente molto bene, indosso è una favola. Il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro, si commenta da solo, fate voi. Trovate in descrizione qui sotto tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link che potete utilizzare per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diminuisce ulteriormente. Prima di lasciarvi alla parte finale nella quale vedrete le misure, mi raccomando iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.